Ho cominciato a lavorare come sceneggiatore per caso, partendo da un mio romanzo. Avevo incontrato Claudio Bisio, Claudio Bisio aveva letto La cura del gorilla e mi disse guarda mi è piaciuto molto il libro e vorrei farne un film, ti farò chiamare dal mio produttore. Ero convinto che fosse una di quelle cose che si dicono quando si incontra l'attore che vuole farti i complimenti e invece no, è successo che mi chiamò poi Maurizio Totti che era il capo della Colorado Film e mi chiese di cominciare a scrivere il film del gorilla. Io non avevo mai scritto nessuna sceneggiatura, non sapevo neanche come si facesse e forse un po' si vede dal primo film. Ha avuto una gestione travagliata ma per la prima volta vedevo sullo schermo il mio personaggio che ho tenuto il mio nome, interpretato da Claudio ed è stata un'emozione molto forte. Da questo film ho cominciato a capire che mi piaceva lavorare anche sulle immagini, con le immagini per quanto sempre scrivendo, non facendo il regista o il fotografo. Ho accettato un paio di progetti, uno era la Sima Crimini, che raccoglieva alcuni scrittori di noire italiani curato da Giancarlo De Cataldo e ho scritto il mio episodio che si chiamava L'ultima battuta, c'era Francesco Salvico come attore e raccontava di una madre di un bambino prodigio che per fargli fare successo il bambino prodigio, sapete quelli che mandano questi programmi televisivi per fare barzellette e così via sostanzialmente aveva rubato il repertorio di barzellette a un comico e l'aveva ammazzato perché l'idea soggiacente di questa storia era che ci sono madri disposte a tutto per fare successo più ancora che le persone in sé, più ancora che i loro figli e poi il crimini ebbe un seguito con il ritorno di crimini, crimini italiani, si chiamava in cui raccontai un'altra storia che si chiama Besti che avevo scritto ambientato nell'alberga maschera ma che per la televisione l'ambientale a materia e lì io, diciamo da lì, non mi sono più fermato Grazie